La passione per la nautica del pandino lo sapete, le barche sono la cosa più bella del mondo, la libertà, il mare, comunque chi è appassionato di nautica lo sa bene. Catera 60, poi dai la passione del pandino, la nautica catera 60, oltre le auto eccetera, i camper, catera 60 è un 60 piedi, la politica. Designed by Francesco Guida, multispace yacht, Fiat Mare, multispace, è una navetta che ha una particolarità, questo salone, vedete questo art top apribile sul tetto, cioè sul terzo ponte, capovolge un po' il paradigma. Al piano superiore c'è questo ampio living, è tutta basata sull'open space, queste ampissime vetrate, uno studio di design formidabile. Poi il cantiere Fiat, che è un cantiere napoletano, prodotto a Napoli, è una ridisposizione della living area, capito? Dell'area tradizionale, perché tutte le cabine sono al primo ponte, recupera spazio al 30%, more living square, capito? Quindi piazze, la traduzione sarebbe piazze vivibili a bordo. Abbiamo queste windows enorme, queste finestrature apribili, che garantiscono privacy, un'ampissima dinette, un tender garage. Abbiamo all'ultimo piano, come detto, questo living immenso, motorizzazione Volvo Penta, 20 nodi, garantita 20 nodi, ma le navette hanno questa velocità tendenzialmente. Vedete, vedete? Questa è la predisposizione, ingenious cabins living, capito? Questa è la parte prua, pruata, e poi abbiamo, questa è la cabina di pilotaggio, che è proprio in spalle al living, all'ultimo ponte, e questa è la paella dinette, accomodissima dinette, al primo ponte. Bيد BUNDIN